Piazze piene anche dopo le vittorie per i nuovi sindaci di Cesena e Forlì che hanno festeggiato le loro elezioni a primo cittadino. Entusiasmo e voglia di lavorare queste le parole d'ordine per entrambi i neoeletti. Il popolo del centro-destra ha omaggiato Gianluca Zattini nella mercuriale piazzetta della misura. Abbiamo liberato tante aspettative, abbiamo liberato la voglia di Forlì di voltare pagina e questo è veramente un qualcosa che abbiamo fatto tutti assieme. Io ce ne ho messo un pezzettino, però se non ci fossero stati tutti questi ragazzi, se non ci fossero stati voi, non sarebbe stato possibile. Dopo 70 anni abbiamo ribaltato un sistema di potere politico e quindi grazie a tutti quelli che non si sono arresi, grazie anche a tutte quelle persone che magari ci hanno lasciato, ma che sono persone che hanno sempre combattuto per stravolgere quello che era la politica in questo comune come Forlì. A Cesena invece Enzo Latuca ha riempito i giardini pubblici per salutare amici e sostenitori. Adesso si inizia e c'è bisogno subito intorno a me di una bella squadra, quindi in pochi giorni avremo una nuova giunta comunale e sempre nei prossimi giorni andrò a salutare uno per uno tutti i dipendenti comunali perché voglio che si sentano parte di questa squadra. Durante la serata il giovane neosindaco ha ringraziato il suo predecessore Paolo Lucchi. Devo dire che dall'ordine con cui ho trovato l'ufficio questa mattina so che il comune che lascia l'amministrazione, che lascia sarà l'amministrazione in ordine, con i conti a posto e quindi sarà più facile il lavoro per noi. Pronto a incontrare Zattini? Ci sarà da fare un po' di sinergia? Sì, naturalmente pronto a incontrare Zattini, tutti gli altri sindaci, sia del Comprensorio che della Romagna, pronti a collaborare. Immagino che sia io che lui nei prossimi giorni avremo bisogno di qualche ora da dedicare al nostro comune, ma poi ci incontreremo breve.